I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle al Comune di Campobasso hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti per segnalare i costi eccessivi legati all'utilizzo dei telefonini cellulari da parte di alcuni consiglieri comunali della precedente amministrazione, cifre da capogiro sulle quali i grillini intendono vederci chiaro. Ci siamo resi conto in sede di discussione del bilancio che c'erano state delle anomalie nella spesa negli anni precedenti, ci riferiamo al 2011-2012. Queste anomalie hanno avuto riscontro nella documentazione che abbiamo richiesto al Comune di Campobasso in ordine a delle spese telefoniche, soprattutto per quanto riguarda le spese telefoniche dei cellulari in uso ai consiglieri comunali dell'epoca, soprattutto per quanto riguarda dei costi relativi alle connessioni dati. Connessioni dati che non erano previste da contratto che invece la struttura ha autorizzato il pagamento senza mai porsi il problema. Quindi diciamo che l'esposto ha soprattutto l'obiettivo di sollecitare la struttura a fare il proprio dovere, magari anche verificando se ci sono le possibilità per il recupero delle somme, ad una sveglia a tutta la struttura amministrativa affinché le spese, visto che pagano tutti i cittadini, siano sempre controllate. Avete quantificato la somma complessivamente? Siamo nell'ordine dei 40.000 euro, quindi cifre che sono state sostenute e che a nostro avviso erano illegittime e avrebbero dovuto essere contestate sin dal momento in cui la spesa era stata fatturata, quindi sin dalla prima fattura. Questo non è avvenuto, noi ne abbiamo preso atto, abbiamo preso la documentazione e quindi adesso speriamo che la Corte dei Conti con il nostro esposto si adoperi per verificare tutto ciò.